FABBIO CARBONE Sono Fabio Carbone, ingegnero mechatronico nel departmento ADVANCE R&D di Brembo Sono Giulio Calamai e sono ingegnero mechatronico nel departmento ADVANCE R&D di Brembo Brembo è un leader mondiale nel design, sviluppo e sviluppo di sistemi freni FABBIO CARBONE 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 in le applicazioni di brake e elettrici di brake e elettrici di brake. Abbiamo scelto una metodologia di design model da specifizioni funzionali fino alla specifizioni di componenti. LMS AmiSim LMS AmiSim necessitiamo di previsionare la performance e assurare la robustezza nel primo stagio del processo di design. LMS AmiSim ha migliorato i nostri cicli di sviluppo perché ha avvicinato i nostri procedimenti di design nelle applicazioni di brake-by-wire e elettrici di brake e elettrici di brake applicazioni. Mi preferisco la modellazione di modellazione di user-friendly e la modellazione di modellazione di grazie e la modellazione di grazie di sistemi complexi meccatronici. Abbiamo scelto la modellazione di modellazione e di condividere i risultati e la modellazione di componenti. Grazie a tutti!